il fatto quotidiano contro matteo salvini il leader della lega come peraltro matteo renzi è nel mirino di marco travaglio e oggi martedì 20 aprile è arrivato un nuovo affondo un assalto il pretesto per aprire il fuoco contro salvini e la battaglia dell'ex ministro dell'interno per spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 un'ora vitale per i ristoranti ai quali verrà concesso di riaprire alla sera dopo un anno di disgrazie una posizione sulla quale anche oggi matteo salvini ha insistito e che ha trovato diversi consensi anche trasversali se i ristoratori vogliono lavorare anche a cena e questo il concetto della posizione del leader del carroccio i ristoranti hanno bisogno di quell'ora extra se vogliono puntare a un doppio turno travaglio per l'occasione arma la matita di vauro il vignettista comunista che intitola la sua ultima fatica coprifuoco appunto dunque ecco due militari e delle voci che arrivano da un punto non ben definito alto là chi va là chiedono gli uomini in divisa ic risponde la voce parola d'ordine mojito ic cacchio di nuovo salvini concludono i militari insomma fa notare libero quotidiano punto it che riporta la notizia ancora una volta non è certo una novità il fatto quotidiano fa passare il leghista come un ubriacone con l'ormai stucchevole e trito e ritrito riferimento al mojito ma travaglio c'è da scommetterci sarà soddisfattissimo per l'ultimo guizzo firmato vauro chi osa la fonte sulla vicenda specifica libero fa anche notare riferendosi alle argomentazioni alla base della posizione di matteo salvini che la vicenda non viene trattata nel dettaglio dal fatto come detto trattasi semplicemente di un pretesto per dar contro per l'ennesima volta al leader del carroccio grazie a tutti